Giorno di festa per il santo patrono ed è caos al pronto soccorso di Pescara. Come si legge nell'articolo di Flavia Bucili su Il Centro, 100 pazienti ieri in attesa, ambulanza dirottati a penne e popoli, numerosi disagi per gli utenti. Insomma, una situazione che si ripete anche e soprattutto nei festivi, come nel giorno di San Cetteo. Abbiamo interpellato il primario facente funzioni del pronto soccorso di Pescara, Antonino Gabriele, il quale precisa che ci sono e ci sono sempre stati dei picchi e prosegue. Nelle ore pomeridiane c'è stato un aumento del flusso di pazienti e soprattutto alcuni codici rossi in più rispetto al solito. Quindi questo ha determinato necessariamente un ritardo per quanto riguarda l'accettazione e quindi l'accumulo di pazienti. Ma sono dinamiche di lavoro che nel corso di una giornata si possono verificare. Comunque ieri nella fattispecie abbiamo adottato gli opportuni correttivi richiamando del personale sia medico che infermeristico, fatto sta che in serata la situazione era rientrata nella norma. Un problema atavico quello della carenza di organico che favorisce i disagi per gli utenti. Questa è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, però la problematica è sicuramente nostra perché l'afflusso è notevole, la gestione di pazienti, dobbiamo anche gestire pazienti restanti al ricovero, ma è una situazione un po' che riguarda tutti i pronto soccorso delle grandi città e con dei problemi che dovrebbero essere risolti a livello nazionale. Altra questione è il sovraffollamento del reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara, toccato con mano dall'assessore Verì. Beh, che si può fare? Purtroppo l'ortopedia sta diventando un problema perché purtroppo sono gli anziani che cadono. Comunque so che si stanno attivando per poter fare dei percorsi che facilitano l'accettazione di questi pazienti e quindi risolvere quanto prima i loro problemi. Il dottor Valterio Fortunato, direttore medico dell'ospedale di Pescara, torna sulle lunghe code al pronto soccorso di ieri. Chiaramente nei periodi di fine settimana, ma anche nei festivi infrasettimanali, aumenta l'afflusso di pronto soccorso in maniera ormai stabile. Volevo rimarcare il discorso sulle dimissioni dell'ospedale, ovvero spesso ci si dice che non dimettiamo durante i periodi festivi settimanali e questo è un discorso che non risponde alla realtà. Comunque, nell'ultimo fine settimana, tra sabato, domenica e lunedì, i giorni in cui abbiamo avuto l'afflusso, noi abbiamo fatto 115 dimissioni. Dottore, qualcuno si è lamentato di andare a Popoli, Penne, sono stati dirottati lì, lei cosa risponde? Certamente creiamo un disagio ai familiari, ma stiamo parlando di Pescara. In altre regioni la gente si sposta, viene trasferita a seconda della disponibilità di posti letto anche in province diverse. Pescara purtroppo è un hub ospedaliero, di conseguenza c'è un afflusso che deriva non soltanto dalla nostra provincia, ma che viene anche dai comuni delle province confinanti che sono anche quelli più popolosi. Ma cosa si può fare? È una bella domanda. Per quanto riguarda il futuro stiamo cercando di attivare dei percorsi dedicati, i cosiddetti fast track, li stiamo potenziando perché già li abbiamo. Speriamo di avere un aumento degli organici medici e infermieristici, ma soprattutto avremo bisogno di potenziare la rete delle strutture territoriali per la dimissione dai reparti. Intanto si può consultare il sito dell'Asra di Pescara, dove è presente la situazione in tempo reale del pronto soccorso della provincia. Grazie a tutti.